Presentato una pubblicazione con il bilancio di questi ultimi quattro anni di Linee Lecco, che anni sono stati per la società? Anni impegnativi ma anni molto belli, un'esperienza unica, io termino il mio mandato il 31-12-2020 e lascio un'azienda completamente diversa e differente rispetto a quella che ho ereditato dal mio predecessore. È il risultato di un lavoro condiviso con tutti i dipendenti innanzitutto, fatto con trasparenza, fatto con determinazione, fatto con progettualità. L'obiettivo era quello di rivalutare questa azienda alla luce anche di ipotetiche scelte che erano state fatte precedenti in merito ad una vendita di questa società. Il fatto di non aver venduto questa società ha scatenato una determinazione aziendale anche dei dipendenti di dimostrare come un'azienda gestita in un certo modo poteva dare determinati risultati. Un quadriennio impegnativo, di sacrifici ma anche di grandi soddisfazioni perché Linea Lecco ha investito in modo esagerato, se vogliamo, importantissimo per la città di Lecco in tante aree che si parte dall'area di parcheggio per arrivare all'attività di noleggio, per arrivare addirittura alla sistemazione dell'officina e della sede aziendale. Quindi ogni giorno di questo quadriennio è stato un giorno di attenzione verso l'azienda e quindi anche verso la città di Lecco. Ha dato dei frutti positivi perché abbiamo avuto un aumento molto molto importante nell'attività di noleggio, apprezzata per la sicurezza, per la bellezza dei propri autobus, per la comodità dei propri autobus, ma ripeto soprattutto per la sicurezza nel trasporto. Abbiamo investito anche nel trasporto pubblico di linea con autobus dell'ultima generazione. Stiamo ultimando probabilmente a fine di questa settimana addirittura l'inserimento degli impianti per l'abilitazione elettronica su ogni autobus e saremo una delle prime città della Lombardia a essere pronti per l'abilitazione elettronica che ripeto cambierà secondo me anche la vita del cittadino e dell'utente perché passeremo dal biglietto cartaceo al biglietto telematico. Quindi questo sarà un cambiamento epocale.